eventi appisa il ventunesimo raduno nazionale dei marinai d'italia dal 17 al 24 settembre la città ospiterà la settimana del mare montepulciano diventa la città del libro antico e raro il 23 il 24 settembre si terrà la prima edizione della manifestazione con un'esposizione di 100 libri stampe antiche e una serie di salotti letterari dall'agricoltura del 500 alle donne scrittrici e stampatrici del rinascimento pisa diventa la capitale della marineria d'italia con il ventunesimo raduno nazionale dell'anmi associazione nazionale marinai d'italia che si svolgerà il 23 il 24 settembre intorno al raduno un fitto calendario di eventi che a partire già dal 17 settembre darà vita alla settimana del mare mostre istituzionali cerimonie conferenze attività per studenti per arrivare alle giornate clou col concerto della banda musicale della marina militare e col defilamento sulle ungarni di migliaia di marinai d'italia che chiuderà le celebrazioni la mattina di domenica 24 settembre l'evento è stato presentato a palazzo del pegaso ed è organizzato dall'associazione nazionale marinai d'italia tramite il gruppo marinai di pisa e richiamerà nell'ex repubblica marinara circa 5.000 marinai da ogni parte d'italia questo è un evento importante un evento che non riguarda solo pisa non riguarda solo la costa ma la toscana tutta è orgogliosa di ospitare questo momento il raduno nazionale dei marinai d'italia sarà una settimana lunga densa di impegni densa di appuntamenti il clou sarà il 23 il 24 di settembre e noi vogliamo dimostrare di essere quella terra accogliente che siamo pisa è stata sempre una città che è cresciuta guardando al mare e non è un caso che ancora oggi nel simbolo della nostra marina militare ci sia la croce pisana ed è bello poter ospitare questo momento e dire grazie alle donne e agli uomini della marina che svolgono un lavoro fondamentale per la nostra città per il nostro per la nostra regione per il nostro paese quando si ha la capacità di sapersi aprire di creare momenti come questi di sostenerli quando si riesce a costruire le condizioni per essere accoglienti sicuramente questo ha un impatto importante su un territorio quello della costa toscana che in quest'estate ha sofferto ha sofferto più che negli altri anni su questo dobbiamo farci una riflessione nei prossimi mesi e questo momento è un momento come dire anche di ripartenza e di rilancio a pisa dalla 17 al 24 settembre sarà una grande festa è un piacere per tutti noi ritornare in toscana perché nel 70 alla sesta edizione eravamo qui a firenze noi a differenza delle altre associazioni il raduno lo facciamo ogni quattro anni ma c'è un motivo perché in realtà non dura solo un fine settimana ma è un periodo molto più lungo che noi dedichiamo a parlare di matti di malittimità soprattutto rivolto ai giovani ci sono molte attività molte conferenze presentazioni presso le scuole e questo è importante è importante che venga capito a tutti i livelli dei più giovani più anziani il ruolo del mare e chi meglio dei marinai hanno questa possibilità loro vivono e lavorano sul mare e capiscono e possono essere il tramite giusto per parlare del mare della sua importanza intanto mi preme sottolineare l'importanza di assetti pregiati della forza armata la marina militare c'è stata sempre molto vicino tanto è vero che sabato noi abbiamo il concerto della banda della marina militare che verrà fatta a teatro verdi il giorno dopo è il clou per quanto riguarda l'associazione perché si parla di defilamento migliaia di marinai defileranno sul lungarno e speriamo di riuscire veramente a trasmettere quell'entusiasmo quella passione che ci caratterizzano i marinai sono un grande equipaggio dove nessuno viene lasciato indietro e si è compatti sia nel bene che nel male e vogliamo trasmettere questa che deve essere un messaggio non solo a pisa la toscana ma tutta l'italia credere in quello che si fa nella nostra tradizione c'è che il numero dedicato al raduno nazionale in questo caso sarà ottobre 2023 è un numero speciale quindi dedichiamo 80 pagine all'evento di pisa in virtù di quella che sono tutte quante le manifestazioni che si dipangono lungo la settimana del mare a cui il presidente nazionale vi ha accenato in precedenza quindi diciamo certo l'evento clou è quello del defilamento di queste 5.000 persone tra marinai ma anche familiari davanti al palco delle autorità però daremo spazio ovviamente a tutte quelle che sono le varie iniziative che ripeto durante domenica 17 fino a domenica 24 si svolgeranno in quel di pisa i gruppi coinvolti sono 414 e arrivano da tutta l'italia come appunto sappiamo dal nord al sud dalle isole e quindi saremo in grande numero per fare questa attività eccezionale perché ovviamente noi abbiamo fatto un programma molto intenso c'è una serie di conferenze che si svolgeranno anche al museo delle antiche navi delle navi antiche che è presso gli arsenali repubblicani abbiamo altre attività poi soprattutto mirate anche agli studenti abbiamo fatto un concorso di pittura per le scuole primarie e un concorso fotografico quello per le scuole primarie praticamente riguardava pisa e il mare e come premio abbiamo messo oltre alla solida i premi che si possono dare anche ai ragazzi un'attività a mare che faremo marina di pisa il mercoledì con un'esercitazione di soccorso che vedrà cani l'impiego dei cani con la croce rossa ai vigili del fuoco e la guardia costiera che in quell'occasione metterà un elicottero con il soccorritore per fare questa attività Montepulciano diventa capitale dei libri preziosi il 23 e 24 settembre si terrà infatti la prima edizione di Montepulciano città del libro antico e raro alla conferenza stampa di presentazione al media center sassoli di palazzo del pegaso sono intervenute cristina giacchi presidente della commissione cultura del consiglio regionale della toscana e elena rosignoli consigliera regionale membro della commissione cultura dalla commedia toscana del cinquecento all'agricoltura del rinascimento dalla santità domenicana all'archeologia locale fino alla giornata conclusiva di un congresso internazionale sulle due sante patroni d'europa brigida di svezia e catterina da siena e un'autentica rarità come una mostra di libri stampati nel cinquecento da donne tipografe padrone delle loro tipografie questi alcuni dei temi che verranno affrontati durante la manifestazione è una bellissima prima volta questa della rassegna montepulciano dedicata al libro antico e raro può sembrare una cosa di nicchia che interessa solo agli addetti ai lavori o pochi appassionati ma in realtà questa è una rassegna ambiziosa che vuol coinvolgere studenti studiosi che aspira a usare questo oggetto affascinante che è un libro antico del quale noi a volte proprio per aver usato così tanti libri non cogliamo il valore esotico in tempi di comunicazione telematica di uso del web di smaterializzazione anche della lettura e del sapere ma invece per tanti giovani il libro può diventare un oggetto esotico di culto un oggetto da collezione credo che sia un'ottima occasione questa che montepulciano sta accogliendo di promuovere attraverso l'oggetto libro la cultura della nostra storia e poi anche la cultura in generale un rapporto con il sapere con la lettura che assume anche una veste appunto quella di di rapporto con gli oggetti di collezionismo degli oggetti auguro tutto il meglio a questa iniziativa e come consiglio regionale la sosteniamo e la promuoveremo come potremo la manifestazione assume una importanza grande legata non solo al pregio che la manifestazione del libro raro e antico rappresenta ma anche al messaggio che può dare perché oltre ai vari salotti letterari c'è un fattore legato anche all'inclusione sono stati coinvolti anche alcuni studenti dei licei poliziani che da mesi lavorano anche a questa iniziativa proprio per coinvolgere più generazioni ad un tema che magari potrebbe essere legato prevalentemente ad appassionati o ad una nicchia di persone che sono appunto appassionate del libro antico e raro una serie di eventi di salotti letterari che trattano anche temi attuali ecco interessante sicuramente quello che mi ha colpito moltissimo sarà quello delle donne stampatrici del 500 donne proprietarie delle loro stamperie ecco ogni manifestazione legata ai libri racconta lascia una testimonianza che ci fa scoprire nuove nuove cose nuove particolarità legate al settore che magari passerebbero altrimenti in secondo piano quindi ecco un'iniziativa sicuramente degna di nota in un contesto anche paesaggistico bello ed importante il 24 settembre a Montepulciano si svolgerà la prima edizione di questa manifestazione evento culturale Montepulciano città del libro antico e raro organizzata dalla società bibliografica toscana insieme alla società storica poliziana e la prologo locale insieme in collaborazione con altre istituzioni e licei poliziani vedrà un'esposizione di circa 100 libri e stampe antiche ma anche tanti convegni salotti letterari con personalità della cultura e la collaborazione anche dei licei poliziani appunto una ventina di studenti potranno illustrare le ricerche che hanno fatto nel corso di questi mesi precedenti a questa prima edizione è sicuramente un evento culturale che arricchisce la nostra offerta culturale che si aggiunge a tanti altri eventi di importanza notevole ma anche dà un certo prestigio alla nostra città quindi il nostro obiettivo è sicuramente quello di andare a rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini residenti ma anche andare nella direzione di attrarre a Montepulciano un turismo più consapevole, sostenibile, legato praticamente ad eventi culturali che si svolgono proprio nel nostro territorio. Noi siamo molto contenti di aver stipulato una convenzione con la dirigenza dei licei poliziani proprio perché il coinvolgimento dei giovani è stato fondamentale ed è fondamentale noi come diciamo sempre facciamo le nostre iniziative culturali innanzitutto per i nostri concittadini per la nostra comunità in primo luogo ovviamente per i giovani e l'aver avuto l'occasione di far partecipare i giovani all'organizzazione e allo studio anche contenutistico della mostra e dei vari salotti letterari che sono abbinati alla mostra per noi è stato veramente un punto di principio ma non soltanto è il valore aggiunto secondo me a questa iniziativa e chiaramente non soltanto per i giovani ma un po' per tutti quanti coloro che amano questo genere di oggetto che innanzitutto viene diciamo ammirato proprio come oggetto perché il libro antico è un'opera d'arte intanto oltre che poi è avere chiaramente un contenuto particolare. Si comincia martedì 19 settembre con un incontro da avvocato in pensione potrei definirlo prodromico della due giorni del fine settimana proprio ai licei di Montepulciano e grazie a questa collaborata e consolidata attività tra l'amministrazione comunale e i licei di Montepulciano non dimentichiamo che a Montepulciano c'è il liceo classico, scientifico, linguistico quello che una volta era chiamato magistrale e ora non è scienza umana insomma io sono rimasto un po' indietro ma insomma c'è ecco quest'anno la mostra è stata organizzata insieme a loro i cataloghi sono stati redatti, compilati, studiati insieme ad un gruppo nutrito di studentesse e di studenti dei licei ovviamente guidati da un gruppetto di professori molto qualificati il risultato secondo me è semplicemente ottimo, perdonerete il superlativo e non ho con me i cataloghi perché sono in stampa ma questo è un motivo in più per voi per venire a Montepulciano il 23-24 prossimo vi faremo ben volentieri omaggio di questi cataloghi e sentirete parlare anche questi ragazzi e queste ragazze perché nei vari salotti letterari che spiegano le sezioni delle mostre loro parlano non solo i cattedratici, non solo gli esperti, non solo i collezionisti come sono io, ma loro questi ragazzi che il prossimo anno andranno all'università ciò che l'ho ciò che�à Grazie a tutti.